Un pastorale donato al Vescovo Ausiliare Monsignor Antonio D'Angelo che è un dono di benvenuto al Vescovo, ma anche un ringraziamento e riconoscimento per il grande impegno della diocesi a favore di una comunità che ancora porta le ferite del sisma e anche come grazie per l'invito rivolto dall'Arcivescovo, il Cardinale Petrocchi, a Papa Francesco per la perdonanza. La consegna è venuta in comune alla presenza di Monsignor D'Angelo, del presidente del Comitato Perdonanza, il sindaco Pierluigi Biondi perché l'iniziativa è del comitato, del vice sindaco Raffaele Daniele e dell'assessore al turismo Fabrizio Aquilio. Un dono che Monsignor D'Angelo ha colto con gioia nei giorni in cui si parla tanto dell'ipotetica visita di Papa Francesco per la prossima perdonanza. Tutti stanno lavorando a questo obiettivo e a breve dovrebbe esserci un sopralluogo del Vaticano. Nel pastorale, realizzato da una società del Vaticano, c'è una piccola rappresentazione del buon pastore. Monsignor D'Angelo vuole incarnare proprio questo per la comunità aquilana. Per me è un gesto innanzitutto di accoglienza e questo per me è un grande motivo di gioia. Nello stesso tempo anche il simbolo del pastorale per un vescovo è un segno importante perché indica proprio questo ruolo di guida, di accompagnamento della comunità per la via del Vangelo. Non si parla d'altro che di questa possibile ipotetica visita del Papa è un obiettivo al quale tutti in questo momento vogliono lavorare insieme. C'è molto entusiasmo? Sì, adesso se ne parla. Il cardinale ha già detto lui. Si spera e stiamo pregando perché questa visita del Papa ci sia e quindi adesso certamente ci metteremo a lavoro tutti quanti insieme come il cardinale stesso ha affermato. Il comune si è messo a disposizione per collaborare. Tutta la città è unita e auspica l'arrivo del pontefice. Biondi ha voluto infatti ringraziare l'arcivescovo per questo invito rivolto al Papa che rende orgogliosa la città dell'Aquila. L'impegno, non neghiamolo, che è stato messo per l'invito al Papa che è l'auspicio non soltanto estetico di questo territorio ma che ha un profondissimo valore spirituale di riconoscimento del ruolo della perdonanza celestiniana, della figura del Papa Celestino V. Quindi siamo molto contenti che l'ausiliare abbia voluto accettare questo dono su un'idea maturata nell'ambito del Comitato Perdonanza che ringrazio altresì per la sensibilità avuta.